Ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro Enomis e come potete vedere dal titolo di questo video vorrei parlarvi di un argomento stavolta da tifoso del Napoli, quale sono? Che è la notizia che sta circolando in queste ore del nuovo allenatore della Juve che è l'ex allenatore del Napoli, cioè Maurizio Sarri. Le mie impressioni, quali possono essere? Delusione? Non tanto rabbia, devo dire la verità, sono più deluso e amareggiato che arrabbiato, perché non solo io e penso che anche altre persone la pensino come me, si sentano molto delusi anche presi in giro da questa cosa qua. Vedendo un po' i vari commenti delle altre persone, qualcuno dice ragazzi lo ha fatto perché gli danno 7 milioni l'anno, Ancelotti ne prende 5 al Napoli, lui ne prenderà 7 o forse anche di più. Ma la cosa che mi fa provare questo senso di illusione è l'atteggiamento che ha avuto. Negli anni che ha passato a Napoli l'abbiamo chiamato comandante, ci ha portato il più in alto possibile, certo alcune sue scelte non le ho mai condivise, il fatto che faceva sempre giocare quelli e non faceva mai giocare gli altri giocatori. Però alla fine ci metteva il cuore, veramente lo vedevamo come il comandante della squadra, che cercava di fare il massimo per farci vincere le partite. E adesso che cosa fa? Va prima all'estero e fin qua ci può stare, perché si pensa che sia come ha detto sempre Cavani, ex giocatore del Napoli uruguaiano, se devo tornare in Italia tornerò soltanto ed esclusivamente per tornare a Napoli. Quindi pensavo, e penso non solo io, che Sarri avesse pensato la stessa cosa, avrebbe fatto lo stesso, cioè tornare in Italia solo per allenare il Napoli o magari un'altra squadra, ma non la Juve. Visto anche tutte le cose che ha detto ogni volta che parlava della Juve, ne parlava tra virgolette male, era sempre contro la Juve. E il fatturato, e i top player che noi non prendiamo il loro sì, e il palazzo, e le vittorie, e gli aiuti dagli arbitri, eccetera. E mi ricordo, se non sbaglio, forse era, scrivetemi nei commenti se sbaglio, era contro un tifoso juventino, che lui mostrò il dito medio, perché diceva che stava offendendo i napoletani. E tu che fai? Adesso vai ad allenare quella squadra lì? Come pensi che i napoletani reagiscano a questo? Noi già ci siamo presi una mazzata brutta per la situazione di Higuain quando si è trasferito alla Juve. Io sono stato al San Paolo per la doppia sfida, quella dove di domenica si giocava la partita di campionato finita 1-1. E poi la partita di Coppa Italia di ritorno, che abbiamo vinto, se non ricordo male, 4-3. Perché? Cioè, Higuain l'abbiamo massacrato. C'erano fuori allo stadio i venditori ambulanti che vendevano i fischietti per fischiarlo. Quando faceva il riscaldamento, a ogni tiro che faceva, gli dicevamo le parolacce. E adesso, Sarri che cosa succede? Dovrà avere una scorta per quando arriva allo stadio, e quando entra, fischi su fischi. Una caduta di stile allucinante. Non puoi far così, assolutamente. Veramente, l'unica persona che non ha mai tradito Napoli, almeno per quanto riguarda nella storia, è stato Maradona. Adesso il calcio, che cosa è diventato? Veramente è solo una questione di soldi. Va al Chelsea a vincere l'Europa League e dedica la vittoria ai napoletani. Ma allora è un modo per pararsi il culo. Avevi già in mente qualcosa che bolliva in pentola per diventare il nuovo allenatore della Juve? Nella serie gli addolcisco la pillola e dopo gli do la mazzata? Che poi noi abbiamo reagito male, perché siamo rimasti delusi. Ma anche gli juventini non sono da meno. Perché anche molti juventini che dicevano sì, figo, arriva Guardiola. Ah no, arriva Sardi, che schifo, non lo vogliamo. Qualche commento che ho letto su internet. Molti tifosi juventini non vogliono più tifare Juve. che però lasciamo perdere, perché se vedete la storia passata della Juve, quando arrivò Ancelotti, che non vinse mai il campionato, se non ricordo male, ma arrivò al secondo, Ancelotti non lo vogliamo. È arrivato Allegri, noi non lo vogliamo. È dal primo anno che ha cominciato a vincere lo Scudetto, l'hanno cominciato a dosannare, anche se non hanno mai vinto la Champions League. Quindi anche voi siete lì di volta a bandiera, quelli di tifosi della Juve. Anche loro. Ma per noi è peggio. Quando hai un allenatore che si batte ogni domenica, che è toscano, nato a Napoli, che si è sempre vantato di tifare Napoli, a difendere i napoletani, e nulla mi toglierà la gioia di quel famoso gol di Koulibaly contro la Juve. Ed è grazie a lui che tirava la grinta fuori dai giocatori. E adesso ti comporti così? Basta via la tuta per darti un contegno, perché la Juve te lo imporrà, ti dovrai mettere la giacca e cravatta. Che poi, sinceramente, tralasciando i Deschamps, o i Ciro Ferrara, o Ragneri, qualunque allenatore, metti sulla panchina della Juve, con i giocatori che ha, Cioè, il campionato lo vinci ad occhi chiusi. Io vi farò ridere, ragazzi, ma io addirittura, a me piace giocare a un videogioco per PC, che è Football Manager, che per chi non lo conoscesse, è un videogioco manageriale, così, per curiosità, un giorno sono andato ad allenare la Juve. A metà campionata avevo già 20 punti di vantaggio, con i giocatori che avevo. Poi lasciando perdere che mi hanno esonerato, perché non avevo mantenuto la promessa ad un giocatore che lo avrei dovuto far giocare più spesso e quindi mi hanno cacciato, solo per sta strunzata, però vabbè. Ma qualunque allenatore metti alla Juve, vinci! Forse non l'Europa, non la Champions League, ma il campionato. In più, ogni anno tiri fuori top player a go-go e noi abbiamo un presidente che dice sì, compriamo questo, vediamo di prendere quest'altro, eccetera. E alla fine, non prendiamo nessuno di rilevante e qua ci saranno i commenti di alcuni di voi. e Madeleorentis ci ha portato dove siamo adesso. Sì, ho capito. Ma come fai a essere l'anti-Juve se abbiamo giocatori che non sono proprio dei top player? Con tutto il rispetto per Mertens, Insigne, anche se se ne va, sinceramente non me ne può fregare di meno, perché la mia opinione è che Insigne non è un capitano del Napoli, non è ancora maturo. Amsic lo era, Insigne no, ha da crescere ancora. Quindi, con tutto il rispetto per i Mertens, gli Insigne, i Milik, ma non abbiamo una rosa all'altezza. Non dico che quello che facciamo, le vittorie che facciamo, andiamo, le vinciamo per culo, perché comunque ci mettiamo il cuore. Quello che la Jume non ha è un allenatore che ci metteva il cuore per il popolo napoletano e per la squadra, vai da loro ad allenare? Io sono proprio curioso di vedere come andrà a finire. Questa cosa fa più male del trasferimento di Higuain alla Juve. Molto di più. Poi, ditemi nei commenti che cosa ne pensate, chi è d'accordo con me, chi non lo è, accetto qualunque tipo di opinione. Questo scambio di opinioni a me fa solo che piacere, perché vorrei sapere che cosa ne pensate voi di questa storia. Ho fatto una volta discussione con una mia ex amica, perché aveva, la Juve aveva vinto una partita, ha scritto un post dicendo ah, adesso voi finalmente napoletani zitti e muti. Io ho detto ma non ti sembra di esagerare? Lei mi rispose voi siete esagerati perché anche se vincete 2-0 contro una squadra contro l'Empoli o il Frosinone esultate come dei matti. E io do la stessa risposta che dico a tutti quelli che mi fanno dei commenti del genere. Napoli, purtroppo, è quella che è. ha i suoi problemi e le sue questioni. Il popolo napoletano in quei 90 minuti che va allo Stadio San Paolo con quell'atmosfera, con quella squadra, con quei cori e tutto quanto, in quei 90 minuti non pensa più a niente, non pensa ai problemi, non pensa alla criminalità, non pensa alla mancanza dei soldi, non pensa all'assenza di lavoro, è tutta un'altra cosa. Quindi per 90 minuti siamo liberi e spensierati. E l'ho provato anch'io. Quelle volte che riesco ad andare al San Paolo è una magia, non c'è il luogo più bello al mondo a livello calcistico, secondo me. Senza nulla togliere agli altri stadi super fighi europei, Santiago Bernabéu, gli stadi inglesi, tutti quelli che volete, ma il San Paolo è San Paolo. e vedere quegli 11 giocatori, chiunque essi siano, visto che ogni anno magari qualcuno se ne va e qualcuno arriva, giocare e cercare di darci la gioia di una vittoria in quei 90 minuti. è una cosa bellissima, secondo me. Io ho avuto la sfortuna che solo una volta ho visto il Napoli perdere in casa. Le altre volte che sono andato al San Paolo il Napoli ha sempre vinto ed è meraviglioso. E adesso, secondo me, i tifosi napoletani e il Napoli stesso ha una motivazione in più per cercare di battere la Juve quando si dovranno scontrare soprattutto a San Paolo. Per far capire a Sarri della serie se hai voluto andare con loro. e adesso vedrai che cosa ti sei perso anche se per totti anni lui è stato il nostro comandante. Purtroppo il calcio non ha più dei valori. Si pensa solo ed esclusivamente ai soldi. Qualcuno ha detto ma se ti dessero a te 7 milioni non ci andresti? No! Io non ho avuto la possibilità di sfondare nel mondo dello sport. Non come i miei fratelli che hanno giocato a calcio a livello agonistico. Ma se io avessi avuto la fortuna di avere il dono di essere un giocatore di calcio ad alti livelli vedi io sono di Trieste c'è Petagna che ha iniziato nel Milan è di Trieste adesso ok gioca nella SPAL ma è un bravo giocatore. se io avessi la fortuna di avere il dono di saper giocare a calcio mi dicessero Simo ti diamo 10 milioni all'anno per andare a giocare alla Juve. No! Mi puoi mandare ovunque tu vuoi all'estero al Napoli sarebbe il sogno della mia vita al Milan all'Inter ancora ancora ma la Juve non ci andrei ma manco se mi danno 30 milioni l'anno come a Cristiano Ronaldo no no e no una volta chiese mio padre e papà da dove è nata questa antipatia per la Juve e lui rispose perché già ai miei tempi la Juve si comportava come una squadra spaccona voleva questo giocatore bene preso abbiamo i soldi vogliamo quest'altro bene preso abbiamo i soldi e le altre squadre a soffrire a trattare così cioè no ok c'hai più soldi degli altri però così no in più l'atteggiamento che hanno il modo di pensare e tutto quanto ti rende ancora più antipatica per questo qualunque sconfitta che subisce la Juve per noi è come se fosse una vittoria una volta se non sbaglio aveva perso contro il Sassuolo e fuori a Napoli hanno sparato i fuochi d'artificio in pieno giorno rendetevi conto comunque in conclusione io non ho la più pallida idea di come finirà questa storia purtroppo il dato è tratto Sarri è il nuovo allenatore della Juve e finirà molto male ed è una delle più grandi delusioni per noi tifosi napoletani visto come si comportava nei nostri confronti visto che c'è sempre difeso ed era veramente uno di noi come quel famoso striscione che gli lasciarono al San Paolo adesso no ci sentiamo veramente offesi feriti e traditi ditemi voi che cosa ne pensate spero che comunque quest'anno sia una buona annata per noi tifosi del Napoli che veramente i nomi che stanno circolando almeno qualcuno sia concreto soprattutto sinceramente nomi come Lozano e Ames Rodriguez anche se comunque costa tantissimo staremo a vedere almeno lottare per lo scudetto e non arrivare sempre secondi e perdere contro le piccoline o puntare a qualcosa di più perché sinceramente prima che muoio vorrei festeggiare un tricolore wayu ditemi che cosa ne pensate voi commentatemi qui sotto tranquillamente e io vi saluto così un abbraccio a tutti state muy buone ciao ciao wayu e sempre forza Napoli a tutti